Yes! Italiano! Yes! Italiano! Provo a fare la vita per me! È carnevale per cui diciamo che l'allegria è la base fondamentale del carnevale. Però questo consiglio, tra l'altro è la prima volta che si tiene questo consiglio a Fano nella settimana di carnevale. Sono molto orgogliosa di essere la prima e quindi aprire la strada poi a tante altre persone. Mi auguro. Noi abbiamo dei punti che presenteremo, sui quali si dovrebbe lavorare. Però sinceramente mi auguro che i cittadini, che sono già tanto numerosi, propongano delle situazioni, comunque per migliorare. Perché anche se quest'anno è stato un successo, penso, unico, da che mi ricordo io non ho mai visto tanta gente così, tanto bello, organizzato, bene e tutto. Però si può sempre migliorare. Quindi speriamo che l'anno prossimo sia ancora meglio. Usuali? Falcioni, cosa c'è adesso? Usuali? Usuali, usuali! Questo ha ragione dell'assessore. Usuali, non usuali se può dire! Usuali! L'assessore! Grazie a tutti.